De Laurentiis e Giuntoli, svolta storica, già costruito un pezzo del nuovo mosaico di Spalletti. Gioventù, prospettiva, freschezza e nuovi stimoli, i prossimi due colpi del Napoli, ormai in rampa di lancio, presentano queste caratteristiche. Kvarazkelia e Mattias Olivera saranno quasi certamente, a meno di clamorosi colpi di scena, due nuovi calciatori del Napoli. De Laurentiis e Giuntoli, dunque, hanno già messo a segno due operazioni importanti in vista del prossimo futuro, ovviamente targato Luciano Spalletti. Il tecnico dei partenopei intende aprire un ciclo importante e lo farà assecondando non solo le sue esigenze, ma anche quelle del club partenopeo tra bilancio e rigenerazione della Rosa. Il Napoli, dunque, svolta a sinistra, una svolta che si annuncia storica. Via Lorenzo Insigne, arriva il giovane Georgiano, classe 2001, ovvero 21 anni appena compiuti ed un futuro tutto da scrivere. Poi ci sono sempre i vari Lozano, Unas, Politano ed Elmas a completare le corsie laterali dell'attacco. Sempre sulla corsia mancina, Olivera contenderà un posto a Mario Rui, visto l'addio ormai certo dell'Algerino Goulam. La sensazione è che il club farà operazioni importanti solo in mediana, dove potrebbe non esserci più Fabian Ruiz. Ma questo è un altro discorso. Intanto, un pezzo del nuovo mosaico, lato sinistro, è quasi pronto.